buongiorno buongiorno marco bene un piacere di dialogare con te soprattutto su questo ultimo libro che è uscito da poco breve storia della decrescita che è un libro di un po le riflessioni che hai fatto in tutti questi anni e affrontato in molti altri libri più specifici io comincerei questo nostro dialogo partendo un po anche come tu inizia il libro dal fatto che la parola decrescita è stata spesso compresa male non è stata capita in pieno la parola decrescita è stata interpretata in modo sbagliato infatti se la parola decrescita è stato capito male molto spesso coloro che l'hanno capito male l'hanno fatto in mala fede perché c'è la religione della crescita è talmente forte che parlare di decrescita è blasfematorio allora l'abbiamo sempre detto che si tratta di uno slogan per significare la necessità di uscire dalla società della crescita va detto di una società fagocitata da un'economia di crescita un'economia che ha per fine solo la crescita per la crescita non la crescita per soddisfare i bisogni che sarebbe una cosa giusta ma la crescita per la crescita illimitata e allora si deve dire che questa parola decrescita sia in italiano che in francese prima che l'usiamo come slogan in 2002 non era mai utilizzata dagli economisti gli economisti parlavano di crescita di crescita negativa ma non di crescita ma quando abbiamo annunciato questa questo progetto subito gli avversari hanno detto ma è una crescita negativa è una crescita negativa è una cosa insopportabile non è e anche ora in francia almeno dopo questa crisi della pandemia di nuovo si è detto che abbiamo con la pandemia conosciuto una decrescita e questo non è vero era una recessione una crescita negativa ma non ha niente a che vedere con il progetto della decrescita ma poco a poco la gente capisce che si tratta di un progetto di creare non solo un'economia ma una civiltà alternativa a alla modernità ecco e infatti la modernità è segnata in modo direi profondo da questo mito dello sviluppo come crescita infinita in un mondo che però è finito no tu parli con un bellissimo il suo neologismo di assurdistan cioè del pensare alla illimitatezza in un mondo che i limiti invece di a e che questo è il cuore della modernità e della modernità voleva giustamente uscire dal vecchio regime che era molto pesante e del fatto che era dominato da una al medesimo tempo voleva rendere l'uomo emancipare l'uomo emancipare l'uomo da tre cose dalla trascendenza dalla della tradizione e della della dei costumi e ma al medesimo tempo ha distrutto ciò che tutte le culture cercavano di fare di di limitare la dismisura ciò che i greci chiamavano lubris e la dismisura da un certo punto c'è nell'uomo un'aspirazione che è un'aspirazione bella alla trascendenza ma questa aspirazione può diventare distruttiva quando diventa una sete di potere illimitato una sete di ricchezza illimitata e tutte le culture hanno cercato di far lavorare questa aspirazione alla trascendenza in modo che non distrugge la società e la modernità soprattutto dopo questa svolta segnata dal questo la teoria di bernardo monville la fa la favola degli api che tutte le culture si sono sbagliate che non si doveva limitare le passioni ma al contrario liberare le passioni ciò che spinosa chiamava le passioni triste e che c'era una che quella queste passioni anche lui parla i vizi i vizi privati fanno la ricchezza pubblica e questo si è trasformato è la base dell'economia della teoria economia con la mano invisibile di adam smith che ciascuno cercando di massimizzare il suo interesse contribuisce al bene pubblico e allora questo con la modernità si è si è liberato anche la capacità di distruggere la natura e di sfruttare gli altri vedo questo è stato allora vediamo oggi che naturalmente viviamo su un pianeta limitato e che una crescita infinita è incompatibile con un pianeta finito e questo è il problema allora il nostro il progetto della decrescita non è di tornare al vecchio regime ma di realizzare il progetto dell'illuminismo del di di realizzare una vera autonomia dell'uomo ha detto di e per questo ritrovare il senso dei limiti e tutto è prendere coscienza dei limiti del pianeta e anche dei nostri limiti che facciamo parte delle della natura e che se distruggiamo la natura distruggiamo l'ecosistema nel quale viviamo esatto infatti adesso si parla sempre più spesso di antropocene cominciamo a renderci conto che forse abbiamo sempre trattato la natura come qualcosa di fuori da noi e invece come dicevi tu noi siamo una delle parti della natura ecco quello che forse è accaduto nella nostra società soprattutto quella industriale post industriale e appunto come già un po e cenato la perdita del senso del limite alcuni anni fa tu avevi fatto un bellissimo libretto proprio dal titolo limite dove spiegare che appunto esistono per forza dei limiti oggettivi altre società altre culture non europee tu hai fatto anche le esperienze lunghe in africa in qualche modo si sono sempre dati un po un senso del limite cercavano di bloccare la produzione la distruzione della natura magari con boschetti sacri totem e altre formule c'è sempre stato l'idea che non potevamo far tutto e solo la modernità che ha liberato l'uomo da quest'idea del limite allora c'è una cosa strana che quando abbiamo cominciato a lanciare questo progetto di decrescita perché questo progetto come lo sai viene da una critica dello sviluppo come occidentalizzazione del mondo ma dopo la caduta del muro di berlino c'è il trionfo del del mondo unico di un pensiero unico della globalizzazione e allora il nostro progetto è diventato un progetto di ripensare un'alternativa al mondo unico dominato da questo pensiero unico e contrastare questa questa fatalità espressa dalla Margaret Thatcher Tina there is no alternative la cosa strana è che il nostro progetto della decrescita immediata subito la gente soprattutto i media hanno detto ma è una utopia ma è una utopia nel senso di una un pensiero irrealista che non si poteva ora con venti anni dopo che vediamo oggi sempre di più il cambiamento climatico la crisi ecologica allora si è sviluppata un pensiero del del collasso che è e allora si dice viviamo nel nell'antropocene ha detto una nuova era geologica dove l'uomo diventa una forza geologica che che trasforma si trasforma la natura e si trasforma le leggi della della natura e e allora questo idea che subito è diventato di moda il collasso dopo il famoso libro di non mi ricordo più non mi ricordo più Jared Diamond Jared Diamond si e non a caso questo pensiero è nato nei paesi anglosassoni dove dove pensare nel nel campo economico una decrescita era impossibile allora è più facile come si dice è più facile pensare il collasso che l'uscita dal capitalismo e allora la cosa strana è che le medesime le medesime persone che rifiutavano la decrescita sono oggi convinto del del collasso ha detto che prima non si poteva cambiare il sistema oggi è troppo tardi non si può cambiare niente il progetto della decrescita invece è l'idea che un altro ancora meglio altri mondi sono possibili se lo vogliamo il problema è di avere questa volontà di uscire dall'incubo del sistema economico capitalista e della società della crescita e ora ci vediamo che c'è una grande battaglia che è tra la forza del sistema e la necessità di cambiare di sistema soprattutto nella seconda parte del libro ovviamente mentre nella prima fai un po' anche un'analisi storica di come si è arrivati chi sono stati anche i padri della decrescita poi invece il progetto della decrescita prende forma e per esempio è interessante la proposta che fai di invece di parlare di globalizzazione parlare di relocalizzazione ecco cosa si intende con questo passaggio da globalizzazione a relocalizzazione? allora questa relocalizzazione è una parte essenziale del nostro progetto perché che cosa è stata la globalizzazione o la mondializzazione come diciamo più volontieri in francese? è stata l'onimersificazione del mondo naturalmente si dice ma è una bella cosa la mondializzazione perché tutte possono cambiare e parlare a tutti soprattutto con il numerico con tutto questo ma invece la mondializzazione esiste già almeno da 1492 quando gli amerindiani hanno scoperto un certo Cristoforo Colombo la cosa nuova che è successo dopo la caduta del muro di Berlino è invece la mercificazione del mondo che tutto può essere trasformato in merce il problema è che questa mercificazione è un gioco di massacro su scala globale perché c'è la concorrenza che è un altro nome della guerra economica la guerra di tutti contro tutti e solo i solo vincenti sono le imprese trasnazionali ma invece i popoli e la natura sono i perdenti di questo sistema allora è interessante che le vicende dell'inizio della pandemia sia in Italia che in Francia ci hanno fatto sentire la necessità di avere un'economia locale un'economia per la sopravvivenza ma non solo quando si è scoperto che non eravamo più capace di fabbricare le maschere necessarie per proteggersi allora si è capito la necessità che conosceva che bene gli vecchi economisti come Keynes Keynes diceva che le idee devono circolare ma le merce non troppo e i capitali per niente invece abbiamo fatto tutto il contrario e allora lo sapevano già i vecchi socialisti, i vecchi marxisti che come non mi ricordo più l'amico di Marche diceva a proposito del libero mercato che si tratta della libera volpe nel libero polaio e allora abbiamo visto la necessità di rilocalizzare le attività necessarie alla sopravvivenza della gente naturalmente il cibo ma anche tutte le cose e che non si deve lasciare tutta la produzione necessaria alla Cina soprattutto perché ora tutto viene dalla Cina anche se abbiamo distrutto l'agricoltura cinese che è creando dei problemi giganteschi per i cinesi e questo è il gioco di massacro e allora si deve ritrovare il senso del locale non soltanto dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista culturale e politico perché se vogliamo realmente dare un senso al progetto democratico la democrazia non si fa con 7 miliardi di persone la democrazia si fa e lo sapeva bene nostro Jean-Jacques Rousseau la democrazia può solo funzionare a un livello di una città di uno spazio limitato che è stato teorizzato da un grande precursore della decrescita che è l'anarco-ecologista americano Murray Bookchin che lui difende un progetto di municipalismo e si è detto che è stato provato di essere realizzato nel Roraia nella zona del Kurdistan liberato e in effetti sei arrivato da solo alla domanda che volevo fare dopo quello della decrescita il vostro progetto non è solo un progetto di tipo economico ma è un progetto che prevede anche proprio un cambio politico e culturale tant'è vero che nel libro tu contrapponi l'universalismo che finisce per essere un po' la maschera per esportare i valori occidentali ovunque e l'abbiamo visto anche recentemente in Afghanistan con invece il pluriversalismo e della cultura e della democrazia e questa è un po' la chiave ho capito bene l'ultima domanda tu proponi di sostituire l'universalismo che sa molto di occidentalizzazione infatti invece parli di pluriversalismo e democrazia si ho ripreso dal pensatore catalano-indiano Raymond Panicard l'idea di pluriversalismo il pluriversalismo mi sembra e ora è una parola che è stata ripresa anche dai sapatisti del Chiapas l'idea che l'universalismo che c'è nella parola universalismo c'è solo un lato verso unus versus è nato naturalmente con l'illuminismo un progetto inastratto un progetto bello ma un progetto che non fa i conti con la diversità è ineluttabile è il fatto che una cultura unica è una contraddizione come l'aveva spiegato l'etnologo Claude Lévi-Strauss una cultura esiste solo se ci sono almeno due perché la cultura si definisce in contrasto con un'altra cultura e allora dobbiamo fare i conti con l'ineluttabilità della diversità e accettare questa diversità che al medesimo tempo è una vera ricchezza e per questo si deve trovare al medesimo tempo coniugare la diversità con la capacità di sopravvivere senza distruggerci reciprocamente per questo l'idea di un dialogo interculturale ma sulla base del rispetto della diversità si può fare attraverso ciò che questo panicare ha chiamato naturalmente una parola un po' sofisticata ma equivalenti omeomorfiche vi ho detto che c'è un'aspirazione astratta al bene a una vita migliore eccetera che esiste in tutte le culture ma questa aspirazione si traduce attraverso una diversità di progetti che noi parliamo di felicità ma per la felicità ha senso per noi significa poter consumare di più avere la possibilità di fare delle vacanze all'estero eccetera è un progetto legato, molto legato all'individualismo delle nostre società invece per altre società questa è un'aspirazione che si traduce attraverso la diversità come ora è diventato abbastanza ha emerso dall'America Latina questa aspirazione al buon vivere su Maccao Sai degli amerindiani e delle Ande anche se questa aspirazione ci sono delle facciature tra le diverse tribù e allora si deve fare un dialogo tra le diverse culture per realizzare questa società che deve rispettare i limiti del pianeta per questo c'è almeno tempo una forma di filosofia universale che attraverso questa parola tradizionale la saggezza ci sono tutte le culture che hanno una saggezza ma attraverso questa saggezza si deve realizzare una forma di società che noi chiamiamo di benessere che ho chiamato società di abbondanza frugale va detto che si può dire ma l'abbondanza frugale non è un ossimoro no, non è un ossimoro perché l'abbondanza esiste solo se sappiamo limitare i nostri bisogni se i bisogni sono illimitati come lo dicono la pubblicità lo dice, i bisogni sono illimitati allora non siamo mai soddisfatti e non siamo mai felici e allora la felicità o almeno un esempio la soddisfazione può solo esistere se i bisogni sono limiti e questa limitazione dei bisogni è la frugalità la frugalità che ritroviamo come una forma di saggezza in quasi tutte le culture basta pensare a Epicuro Epicuro che diceva colui che non si soddisfacce di poco non sarà mai soddisfatto di niente ma lo ritroviamo anche nel taoismo dei cinesi nella tradizione degli indiani e di Gandhi che diceva il mondo è abbastanza grande per soddisfare i bisogni di tutti ma non sarà mai abbastanza grande per soddisfare l'avidità l'avidità di alcuni infatti mi è piaciuto molto tu citi a un certo punto Pierre Rabie che dice meno beni più legami cioè ecco quindi una società che sia fatta più di relazioni e che forse dovremmo imparare a capire che la relazione è un bene importante ecco il bene non è solo l'oggetto o qualcosa che usiamo ma forse ecco forse la pandemia il cosiddetto londancio ha fatto capire l'importanza delle relazioni ecco quando sono venute a mancare ci siamo accorti di quanto è importante avere dei legami avere delle relazioni il problema dell'occidente della nostra società della crescita è che l'aveva anche capito Robert Kennedy colui che è stato assassinato nel suo bel discorso tre mesi prima che sia assassinato lui diceva facciamo entrare nel prodotto interno lordo ne fa tutti gli merci salvo ciò che crea le cose veramente importanti come l'amore l'amicizia eccetera effettivamente si vediamo che il benessere non è il benavere avere molti non crea se non abbiamo dei legami sociali forti e questo anche l'esperienza recente della pandemia dove siamo stati confinati e che molti hanno capito che essere isolati senza più legami sociali senza poter andare prendere un caffè al bar la mattinata incontrare gli amici dopo il lavoro era una sofferenza terribile che anche molti hanno avuto problemi mentali con quest'isolamento forzato allora questo ci ha fatto capire che la vera ricchezza era forse più il legami che i beni un'ultima domanda che tu alla fine del libro fai anche una proposta tu dici bisogna reincantare il mondo ritrovare un senso del sacro è questa forse la grande lezione che ci può dare questo libro e questo per un italiano questo penso è una cosa che è abbastanza naturale invece per un francese è più complicato perché abbiamo questa tradizione della laicità e parlare e sono un laico un laico convinto e parlare di sacro è difficile perché subito si dice ma lei ci porta di nuovo alla vecchia religione a tutto questo di cui si siamo liberati con la legge di separazione della chiesa e dello stato in 1905 e allora si deve pensare a una spiritualità laica e sono convinto che si può essere una cosa una parola importante è la capacità di miravigliarsi che possono senza essere credenti in una religione possiamo avere la capacità di miravigliarsi davanti allo spettacolo della natura della bellezza dell'arte e per questo della bellezza della poesia penso che l'arte è una dimensione importante dell'esperienza umana che ci fa toccare ciò che ho chiamato una trascendenza immanente che può sembrare un ossimoro anche ma credo che una cosa importante questa idea di dimensione della trascendenza immanente che si può sentire attraverso questo la bellezza la poesia l'arte è una cosa che mi ha molto colpito il fatto che quando si va nei paesi come te dei paesi del sud mi ricordo bene delle chiacchiere con gli amici della Tunisia la Tunisia che sembra un paese tra i paesi del sud un paese molto moderno ma almeno gli amici tunisiani i colleghi tunisiani parlavano sempre di poesia la poesia è un posto molto importante nella loro vita e allora mi ha colpito che da noi la poesia non esiste più non ha più posto nella nostra vita cerchiamo il job il business il divertimento ma non questa dimensione poetica della vita l'abbiamo cancellato e questo prendo la poesia come simbolo ma vale per tutte le arti anche la danza la musica mi colpisce molto il fatto che i giovani di oggi non contano più quando ero giovane c'era questa cultura popolare anche lavorando la gente contava c'era molte tradizioni anche di musica popolare eccetera oggi i giovani quando vogliono divertire c'è questa musica molto forte eccetera ma che non non è più portata dalla gente stessa che e questo è una cosa molto importante ritrovare reincontare il mondo questo un progetto alternativo al mondo come diceva Marx freddo del calcolo economico del capitalismo l'alternativa deve essere non solo un'alternativa materiale ma anche un'alternativa spirituale grazie grazie mille per queste belle parole ricordo ancora tutti il libro di Serge Latouche breve storia della decrescita grazie Serge è stato un piacere arrivederci ai set ciao grazie 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 grazie